Alle 14.42 la molla della sospensione posteriore di Barrichello si stacca e impatta contro il casco di Felipe Massa nella parte anteriore sinistra, staccandogli completamente i supporti della parte sinistra della visiera. L'impatto è violentissimo, la molla di peso un chilo viene impattata dalla Ferrari che viaggia a 255 km orari, ma fortunatamente tutta la struttura di sicurezza, il casco, la visiera e l'Ans hanno salvato il Toyota da danni peggiori. E' certamente stato il pacchetto sicurezza a minimizzare i danni a Felipe Massa nell'incidente avvenuto in Q2. Il casco non è più in fiberglass ma ormai è in carbonio kevlar, tecnologia che aumenta del 70% la capacità di resistenza. La visiera è stata portata ad uno spessore di 5 mm e in plexiglass trattato, condizione che ne migliora le capacità di resistenza ad oggetti contundenti. L'Ans, introdotto nel 2003, in questo specifico caso ha ancorato il casco e ha salvato Felipe Massa da scuotimenti logitudinali del casco subito dopo l'impatto quando aveva già perso conoscenza. E ha lavorato in stretta sinergia con le paratie laterali che sono state introdotte nel 1996.